Non solo eventi sportivi o grandi concerti rock riescono a richiamare un gran numero di persone. Anche eventi religiosi possono farlo, come quelli che dal 13 giugno al 7 settembre 2014 i testimoni di Geova terranno a Forchia, in provincia di Benevento. È infatti prevista l'affluenza di circa 40.000 persone, suddivise nell'arco di 13 settimane. I testimoni di Geova delle isole di Ischia e Procida hanno partecipato al primo di questi congressi unitamente ai loro conservi di Pozzuoli, Arco Felice e di alcune località della provincia di Benevento. Circa 800 sono stati delegati di Ischia, che hanno partecipato all'intero programma durato tre giorni. Pochi sono stati coloro che, partiti di primo mattino, sono poi rientrati sull'isola di sera al termine di ogni giorno di congresso. Quasi tutti hanno preferito pernottare in strutture alberghiere del posto o accettare la fraterna ospitalità offerta dai testimoni residenti nel Beneventano. I presenti a questo primo congresso sono stati circa 3.500. I nuovi battezzati isolani sono stati 5, ai quali si sono aggiunti altri 18 residenti nelle altre zone partecipanti. Il centro congressi, costruito a metà degli anni Ottanta, è il punto di riferimento per i testimoni della Campania e del Molise. I congressi, dal tema Continuiamo a cercare prima il Regno di Dio, si incentreranno su temi di interesse attuale. I presenti riceveranno infatti consigli pratici per alleviare l'anse e per esaltare i valori della famiglia. Il programma prevede il canto di alcune preghiere religiose, chiamate Cantici del Regno, delle rappresentazioni sceniche di aiuto alla vita quotidiana e dei testimoni, e il giorno del sabato il battesimo per immersione. I testimoni invitano tutti ad assistere ai loro congressi. L'ingresso è completamente gratuito, ma soprattutto i testimoni di Geova invitano ad assistere alla conferenza biblica della domenica mattina, dal tema Chi è idoneo per essere il nuovo governante della... ...